Podcasting, 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 quanto mi piace fare podcast, podcasting. Come sapete il 23 marzo ci sarà il nuovo workshop in Tarengarling con l'amico Paolo Fabrizio ma qui con voi volevo condividere una riflessione che mi è venuta fuori l'altro giorno in un'intervista che mi hanno fatto sul mondo dell'audio, dell'ascolto, dicendo come sapete bene i miei podcast derivano in realtà da dei video che faccio così molto velocemente la macchinetta del caffè e che infatti si chiamano da ormai un paio d'anni il caffettino non perché siamo un mante del caffè ma perché non voglio assolutamente farli costruiti quindi i più semplici possibili, il meno artefatti, il meno costruiti se penso invece a una costruzione di uno stacco perfetto penso alla radio penso a M2O e a quanto spaccio nella radio tradizionale che ormai neanche più quella di tradizionale però il podcast rimane in realtà uno strumento per me alternativo per fare altro e mentre faccio altro in realtà mi rendo conto quanto il podcast sia utile per me per ragionare, per informarmi, per avere un aggiornamento, un update verso le cose nuove e verso la comunicazione all'esterno e parlando appunto in questa intervista condividevo il fatto che è un po' come se fossero i social di una volta chi come noi vecchietti digitali a inizio degli anni 2000 si iscriverà su questi social media il podcast è un po' quello, non c'è una regola perfetta te le devi fare tu, non c'è la possibilità di esternalizzarli per cui il contenuto vocale lo devi dare tu e talvolta anche il contenuto scritto, io sono autore, scrittore e sono davanti alla camera per il mio caffettino e questo riporta un po' il valore della creazione il valore di mettersi in primo piano da sole il valore di avere un'empatia col proprio ascoltatore il valore di essere a un contatto ad uno ad uno su Facebook e tante volte anche su Instagram si ha quella sensazione che il contenuto sia una cosa di lontano già prestabilito, prefatto e che non sia qualche cosa di immediato quello che avviene col podcast invece è diverso c'è la possibilità di parlare con te, con qualsiasi persona che hai in ascolto perché io mi sono messo lì, ho registrato un vocale, una voce o col microfono come cavolo volete e stiamo parlando insieme questo credo che sia una delle cose che mi piace di più del podcast è non dover costruire, pensare, delle immagini particolari questo contenuto e poterlo condividere con te per cui tutto qui, volevo solamente condividere con te questa intuizione perché sempre di più il digitale ci allontana e invece in questo caso il podcast che è molto più simile alla radio ci avvicina